Ciao a tutti, siamo appena andati a visitare la Basilica di San Francesco, dove abbiamo tutti avuto l'opportunità di vivere un'esperienza veramente magica. Abbiamo fatto una connessione molto molto forte con il cuore e questo lavoro che abbiamo ricevuto è stato un grande beneficio per il cuore di ciascuno di noi, che si è ripulito, ed è stato veramente bello vedere come l'energia che arrivava al nostro cuore e passata direttamente alla terra per nutrire tutta la terra e tutti i suoi abitanti, quindi anche per te. Un abbraccio, a presto!